Vallei Food Valley ne abbiamo persino fatto due marchi, due brand turistici, perché oggi da tutto il mondo si può venire in Emilia Romagna a visitare persino tanti luoghi della produzione, sia motoristica, meccanica, che dell'agroalimentare e del vino. Più in generale, New York, la visita negli Stati Uniti è stata molto importante perché le relazioni aperte con tutto ciò che ha a che fare anche il tema della formazione e la ricerca, dalla Cornell Tech University alla New York University, sui temi in particolare dell'automotive, era con noi il professor Leale dell'Università di Modena e Reggio in rappresentanza di Munar, cioè quell'associazione che mette insieme le quattro università emiliano-romagnole con le imprese dell'automotive, perché sono partiti questi corsi di laurea unici al mondo qui da noi, biennali in inglese, che raccolgono studenti che possono venire dall'Italia, dall'Europa o dal mondo per l'alta ingegneria applicata all'automotive. Dall'altra parte tutto il tema dei big data, poi il rapporto con l'Istituto del commercio estero per quello che riguarda l'export, faremo un bando per accompagnare e sostenere ulteriori imprese emiliano-romagnole che vogliano in futuro collocarsi sul mercato americano, che ricordo sempre è il secondo per esportazioni dopo la Germania per l'Emilia-Romagna, è il primo extraeuropeo, Emilia-Romagna che lo scorso anno ha raggiunto il vertice italiano, quarta in Europa tra le 77 regioni dei 5 grandi paesi europei per quantità di export pro capita. Andiamo in Cina perché in Cina faremo la settimana della cucina emiliano-romagnola nel mondo, lo scorso anno scegliamo gli Stati Uniti, appunto Washington e New York, che questa volta saranno Gauteng con Guangzhou, quindi Canton, Shanghai e Pechino, i luoghi dove insieme alle fiere consorzi produttori emiliano-romagnoli proveremo a presentare un sistema dell'agroalimentare che è la seconda voce dell'export a un territorio che ha un miliardo e mezzo di abitanti circa in Cina, più o meno il doppio se pensiamo tutto al tema del sud-est asiatico. Ci interessano le relazioni internazionali perché siamo una regione che con umiltà ma con determinazione vuole competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo e questo serve anche a far crescere l'economia, a creare nuovi posti di lavoro che è la cosa che ci interessa più di tutte.